Perché inizierà domani il lavoro in palestra per la nuova Lugio Nord Meccanica, gli ordini di coach Micelli. Oggi, conferenza stampa di presentazione, ha parlato e ha messo subito in chiaro le ambizioni del nuovo club, il presidente onorario Antonio Cercello. Sentiamo. Volete subito cercare di raccogliere risultati anche se il progetto è di durata triennale? Io sono sempre abituato a vincere il primo anno, massimo al secondo anno. Per me io voglio vincere il primo anno e voglio portare tanti modenesi a campo, vedere il campo sportivo quando si gioca pieno e voglio dare soddisfazione alla città. Perché la scelta di arrivare proprio a Modena? A Modena perché tutti mi hanno spiegato che Modena è la città dove è nata la pallavolo, dove si è sviluppato. E poi la combinazione con il mio amico Marchi, che conosce bene il gruppo Lugio, che sono persone, che sono meno sponsor di nostre. E questa è un'altra cosa che mi ha fatto riflettere, perché lui è di Modena e io sono forestiere. Per quanto riguarda invece la squadra, ha detto che vogliamo che diventi una squadra appunto di riferimento per la pallavolo, non solo italiana. Io voglio il riferimento italiano, la migliore squadra e voglio andare a giocare all'estero e adesso non la prima, ma la seconda, la terza. A me piace vincere.